Musica Adesso in questo spazio per ricordare una data che è sicuramente rimasta nella mente, nello scenario, nella memoria di tantissimi italiani. Oggi torniamo indietro nel tempo precisamente alla data 12 novembre 2003. Questa data è una data significativa perché ricorderete tutti la strage di Nassiria quando un'autocisterna piena di esplosivo scoppiò di fronte all'ingresso della base presidiata dai carabinieri causando la morte di 29-28 persone tra cui 19 italiani. Oggi ricordiamo questa data attraverso un libro intitolato La mia Nassiria ed è un modo per ricordare quali erano gli umori, gli stati d'animo, i sentori che si vivevano all'interno di una base e naturalmente con chi era lì per missione. E lo facciamo oggi in compagnia del nostro ospite, quindi diamo il buongiorno a Salvatore Colucci, maresciallo dell'Aureonautica Militare. Buongiorno, ben trovato. Lei è autore di questo libro, lo inquadriamo, La mia Nassiria. In questo libro tra l'altro in cui ci sono delle foto inedite, delle foto scattate da lei, è un modo per ripercorrere uno spaccato di vita militare in luoghi lontani. Ecco, da un lato c'è la missione, dall'altro lato c'è una vita comune comunque da condividere. Con altri qual è e come si fa a vivere, quali sono gli stati d'animo di chi si trova in una base per una missione speciale? Lo stato d'animo è un po' complesso perché quando si parte per queste missioni nel bagaglio, nello zaino, si porta un pochino, ecco, tutto lo stato emotivo di quello che può essere quando si va incontro a qualcosa che è l'ignoto. La mia Nassiria è praticamente uno spaccato della missione antica a Babilonia che nel 2003 diede vita al nostro insediamento in Iraq. Missioni di pace, ricordiamo, gli italiani erano lì. Tutte le missioni nostre sono missioni di pace, noi non effettuiamo missioni di guerra, quindi sono tutte missioni di pace. Naturalmente siamo andati lì per ricostruire, per portare, diciamo, quel lato di umanità che era venuto a mancare in quel periodo quando c'è stata la dittatura da parte del regime. Noi siamo entrati naturalmente in un periodo abbastanza tranquillo. Ecco il problema a volte che si crea in queste famose missioni. Si pensa di stare in un momento abbastanza tranquillo e poi ci sono gli avvenimenti e gli accadimenti. Questi che sconvolgono la vita, ecco, quegli avvenimenti improvvisi, quindi le chiederei proprio di tornare a quel giorno della strage, quel giorno che ecco vi trovò, tra virgolette, quasi impreparati, no? Perché poi non si sa, cioè si va lì sicuramente per commettere, per fare missioni, però ci si trova poi di fronte a degli eventi che non pensi mai, non si è mai pronti veramente, probabilmente. Il problema è che noi abbiamo affrontato le missioni fino a quel famoso giorno con la famosa frase italiano, brava gente, ovvero era il famoso detto che quando noi andavamo all'estero gli autoctoni, cioè le persone locali, ci davano come esempio, no? La problematica è questa, che poi quando affronti la popolazione del luogo, che ti dà quella tipologia di personaggio, la prendi con molta tranquillità. La stessa cosa fu fatto anche quando nell'antica Babilonia, da parte dei carabinieri, diciamo, le famose difese che dovevano essere regolate, perché poi c'è stata un'inchiesta, quindi ci sono state delle persone accusate e altro, dovevano essere a regime, non lo sono stato e quindi automaticamente poi c'è stato il famoso accadimento che ha creato più danni e disastri di quelli che... Ricordiamolo quell'accadimento, perché comunque... Praticamente, vabbè, io mi sono trovato in una situazione un po' particolare perché dovevo far parte dei morti, in quanto dovevo portare il regista Stefano Rolla, di cui l'unica fotografia che è in vita è quella lì della sera precedente, alle 18, la trova nel sedicesimo di fotografie. Io dovevo accompagnare il regista sul luogo dell'attentato, poi per un caso fortuito non l'ho accompagnato più io, lo accompagnò il capitano Figuciello che poi è morto nell'attentato, perché io dovetti portare dei documenti importanti e urgenti in un'altra base dell'esercito e sono scampato. E infatti quando c'è una parte del libro dove è un po' riportata, Stefano Rolla lo trova verso le ultime pagine, è seduto accanto al comandante della base la sera prima, dovrebbe essere una delle ultime. Eccolo lì, in alto a destra, quello lì è il regista che poi è morto nell'attentato e sotto c'è il ministro Martino, foto esclusive, il giorno dopo dell'attentato quando è arrivato lì a Nasseria, in quanto poi io sono stato fortunato dal punto di vista iconografico, cioè delle foto. Certo, cosa si provi in questi momenti? Io le dicevo prima, non si è mai abbastanza pronti, un momento di uno spaccato di vita che sembra quotidiana, che sembra tranquilla, ti trovi poi a dover mettere al sicuro la tua vita e probabilmente anche quella degli altri se ci si riesce. Sì, perché poi ti trovi in un contesto multiplo, non è che pensi esclusivamente alla tua vita, ma la tua vita e eventualmente dei commilitoni che ti circondano. Io mi trovavo sulla strada di rientro, noi abbiamo incrociato sicuramente, perché era l'unica strada che portava a Nasseria, abbiamo incrociato sicuramente l'autobutte e dopo pochi minuti alle nostre spalle c'è stato il boato. E allora in quel momento ti ripercorri la tua vita che eventualmente ci dovevo stare anche io in quel contesto, ci doveva stare anche il mio collega e quindi ti ritrovi con un animo non qualificabile, non lo puoi decifrare, indecifrabile. Ecco, non ci sono poi parole che riescono ad esprimere comunque la paura, il terrore, ma comunque il dovere poi. In missione non le affronti, non affronti paura, nel momento topico non pensi alla paura, pensi esclusivamente a quello che devi fare in quel momento, perché è un indottrinamento che ci danno proprio per affrontare questa tipologia di missione. Per affrontare questa tipologia di missione intanto è con la vita di amici, di colleghi, va via e la missione però si deve portare avanti. Assolutamente. E come si fa a portare avanti? Qual è lo spirito giusto? La porti avanti? Io in quel caso lì l'ho portata avanti in forma distaccata, perché fu proprio l'evento che poi mi distaccò completamente dalla missione antica a Pavelino. Io ho ripartito dopo dieci giorni, perché non ebbi più la forza, l'animo dopo aver visto quello che era accaduto, di rimanere su quei luoghi. Infatti me ne sono allontanato dieci giorni dopo, sono rientrato con una parte dei carabinieri che erano sopravvissuti all'accaduto e mi sono distaccato per un certo periodo, anche se dopo sono ripartito di nuovo, era Afghanistan e altro. Infatti è questo che volevo chiedere, comunque tante esperienze, lei è stata presente in diversi scenari operativi, in altre missioni, qui in Afghanistan, Kosovo, Albania e ancora in Iraq. Che cosa le ha lasciato in una di queste esperienze? Sono state le stesse? O si impara sempre qualcosa e poi si mette a disposizione per l'esperienza e per la missione successiva? Allora, principalmente quando si parte per queste missioni è perché tu metti la tua vita in gioco e metti anche il saper fare, il tuo essere uomo in gioco, perché parti con niente addosso. Si parte proprio con il fatto di voler donarsi per la vita. Assolutamente, noi militari partiamo così, è un qualcosa di diverso, noi militari abbiamo uno status diverso da quello che è il civile, ma non solo per le strellette che indossiamo, anche per la coscienza che abbiamo nell'affrono, noi siamo pronti a morire per la patria, difficilmente una persona civile lo riesce a fare, anche se è accaduto. E quindi è già questo l'animo portatore nelle varie missioni. Come si vive però quotidianamente? Si parte con questa missione, noi militari partiamo con questo spirito, morire per la patria, morire per i civili, aiutare la patria. Però è pur vero che ognuno di voi, penso, abbia una vita della famiglia, una moglie, una fidanzata, un compagno. Lasciare da parte la propria vita personale, andare in luoghi lontani, sapendo di rischiare la morte, c'è una preparazione psicologica o qualcosa che parte dall'interno e che sia da sempre nella vita? Io dico che fare il militare è comunque essere una persona leggermente diversa, altrimenti non puoi farlo. Altrimenti nel momento in cui tu hai indossato le stellette e non senti dentro di te il dovere e la possibilità di farlo, non puoi nemmeno fare proprio il militare. Quindi noi lo affrontiamo in questo modo, è un qualcosa che ci nasce dentro, un qualcosa che in quel momento si plasma con il tuo animo. E quando parti per queste missioni, chi è che ha sposato le tue idee, la fidanzata, la moglie, i figli, accettano, diciamo, quello che è il tuo volere. Possiamo dire che questo sia veramente amore? Sì, è l'amore effettivo della persona che ti sta accanto, perché poi è normale che una persona che ti accompagna esclusivamente con la memoria di non poterti vedere ritornare, il rischio è forte. Il rischio è tantissimo, però ecco come lei, lei è riuscito a tornare quindi a riabbracciare i propri cari, ha rischiato tantissimi, e quindi lei è qui per testimoniarci, ecco per raccontarci attraverso questo libro la sua Nassiria, infatti c'è questa mia che comunque dice tantissimo, no? Tornare a casa, il ritorno a casa da parte dei militari è qualcosa di traumatico? Queste esperienze, penso, presumo, glielo chiedo, non restano a se stanti, come ecco qualcosa di distaccato, come prima diceva lei, si portano ancora indietro? E che cosa significa portarsi indietro queste esperienze e come affrontare poi la vita quotidiana, se quotidiana poi si può considerare? Faccio un esempio molto, qualcosa che mi è accaduto personalmente, io la prima missione in Kosovo nel 99, una cosa molto strana, io sono rientrato il 17 dicembre del 1999 all'atterraggio a Capodichino, noi militari naturalmente nelle nostre missioni siamo armati, abbiamo il nostro armamento, la pistola al nostro fianco diventa il nostro angelo custode, un esempio banale, io sono atterrato a Capodichino, i miei cari mi sono venuti a prendere all'aeroporto di Capodichino, io sono entrato in macchina, naturalmente sappiamo che sotto le festività a Napoli ci sono le famose deflagrazioni amiche, ovvero i fuochi che spaventano un po'. Esatto, al primo botto il mio riflesso è stato quello di mettermi la mano al lato destro e quindi cercare la mia pistola, anche se ormai stavo a casa, quindi questo significa che la missione la porti con te, la porti con te e purtroppo nei primi momenti, nei primi attimi la condividi anche con la tua famiglia, hai un riflesso psicologico molto forte fin quando che lo diluisci, lo diluisci negli anni, però non lo... Bisogna essere aiutati, non è biodegradabile, assolutamente, è un qualcosa che ti porterai sempre con te, nella tua memoria. Non è biodegradabile e sicuramente questo poi diventa anche una forma di amore per i familiari che riescono comunque, e presumo supportare, ad accettare quello che si vive e come diceva prima lei, penso sia indescrivibile, non esistono parole, se non emozioni e stati di animo. Portare questa esperienza anche nelle scuole, approcciarsi con i bambini, sappiamo che la storia è importante, non solo quella passata ma anche quella più recente, con quanto è accaduto recentemente, e insegnare o comunque portare la sua testimonianza a che cosa vuol dire? Fare in modo che i bambini, comunque i ragazzi, i giovani apprendano quanto è accaduto per poi portarlo nella storia successiva, nella loro storia. Anche perché questo è un trattato di storia contemporanea di cui non viene proprio narrato, in quello senso. Esatto, molte volte delle narrazioni vengono messe volontariamente. Assolutamente, io sono stato già testimone in diverse scuole. L'anno scorso, per quanto riguarda l'attività culturale Libriamoci, che è un'attività culturale a livello nazionale da parte della scuola, io sono stato presente in due istituti a Chieti, dove ho portato la mia testimonianza. Sono stato in delle scuole elementari, ho in programma quest'anno proprio di andare presso altre scuole per portare la mia testimonianza e quindi spiegare ai ragazzi non solo che significa essere militari, portare il proprio valore all'estero e quindi automaticamente spiegare che cosa è successo in quegli anni, la realtà di quello che è successo e come una persona normale, quando si trova in ambienti così ostici, possa affrontare nel modo migliore quell'esperienza. E' giusto per concludere, e quindi questo è un messaggio che in realtà va dai piccoli ai giovani e poi agli adulti, è giusto ancora oggi costruire quegli ideali e quindi vivere e forse morire per la patria? Gli ideali servono, assolutamente, perché solo attraverso gli ideali e la costanza si può portare civiltà non solo all'estero, ma principalmente nel nostro paese. Il militare è ancora una forma davvero di civiltà, nonostante a volte capitano degli episodi particolari, ma siamo ancora una figura da guardare. Come sta lei oggi? Benissimo. Complimenti e grazie per averci portato oggi la sua testimonianza attraverso questo libro, Salvatore Colucci, la mia Nassiria, il maresciallo dell'Auronatica Militare, è autore appunto di questo libro. Grazie, grazie davvero. Restate con Mattina 9, pubblicità.